E se ti dicessi che puoi risolvere il 99,9% dei problemi relativi agli errori oppure di lentezza del tuo computer senza bisogno di chiamare un tecnico e senza bisogno di installare assolutamente alcun software esterno, mi crederesti? Beh, probabilmente no, ma io voglio provare a dimostrartelo comunque. E quindi, se ti senti pronto, iniziamo. Disclaimer! I contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo. Andiamo avanti, va? Sicuramente lo sai già, ma io te lo devo ripetere lo stesso. Tutto quello che accade sul nostro computer viene costantemente memorizzato e registrato in appositi log. E questi log sono stati sempre preziosissimi per noi tecnici per diagnosticare tutti i motivi dei vari rallentamenti, colli di bottiglia, blocchi del computer o errori anche di natura più semplice. La lettura e l'interpretazione di questi log, tuttavia, è estremamente complessa e va fatta da persone preparate. Ma c'è anche un trucco che può essere utilizzato per interpretare correttamente e con parole semplicissime. Il problema, ma non solo, per avere anche la soluzione estemporanea guidata passo per passo per la loro risoluzione. Andiamo a vedere come si fa. Ok, e direi di iniziare andando a presentarci ai nostri due nuovi amici che rispondono al nome di Visualizzatore Eventi e Cronologia Affidabilità. Si tratta di due app già incluse in Windows 10 e in Windows 11 che saranno sicuramente presenti anche sul tuo PC. Nel caso in cui, tuttavia, come succede a me perché le ho appena ricercate, non fossero immediatamente visibili, per andare ad aprire questa seconda app, che è quella con la quale inizieremo, ti basterà portarti qui in basso sulla lente di ricerca e, una volta cliccato, andare a digitare nella barra di ricerca per l'appunto Cronologia Affidabilità. Eccolo qui. Come vedi, ti compare immediatamente e potrai aprirlo, ovviamente facendo un semplice clic sul nome del programma. Il suo funzionamento è molto semplice. Si tratta di un registro con tutta la timeline degli ultimi giorni e degli eventi che si sono verificati in un dato giorno sul nostro computer. Ad esempio qui, in corrispondenza del 15 aprile, notiamo la presenza di quattro iconcine. La prima, quella più in basso, di colore azzurro, è un'icona di informazioni. La seconda, un triangolo giallo con un punto esclamativo nero e un avviso, mentre la terza e la quarta, di colore rosso con una croce bianca al centro, rappresentano degli altri tipi di errori e sono solo ed esclusivamente queste le icone di cui andremo ad occuparci nel corso di questo video. Andiamo a vedere come individuare un errore e soprattutto come risolverlo. Come puoi vedere nella porzione in basso del nostro programma, sono riportati tutti gli eventi relativi al giorno che abbiamo scelto. Nel momento in cui andiamo a selezionarne uno e a visualizzare i relativi dettagli tecnici si aprirà una schermata come questa, che ci dice che in questo caso il computer è stato riavviato da un controllo errori e poi ci dà una serie di dati che sono oggettivamente molto difficili da interpretare se non si sa esattamente come farlo. Ma quello che possiamo fare in questo caso è andare a selezionare tutto quanto questo testo qui, andare a copiarlo facendo clic destro e successivamente copia. Dopodiché ci basterà aprire il nostro browser, portarci sul motore di ricerca e andare a digitare il nome dell'intelligenza artificiale che preferiamo. In questo caso io utilizzerò ChatGPT. Effettuiamo la nostra ricerca, entriamo in ChatGPT che ti ricordo è quella contraddistinta dal dominio OpenAI.com e una volta aperto il sito senza neanche bisogno di andare a registrarci potremo semplicemente cliccare sul pulsante Try ChatGPT. Dopodiché senza scrivere assolutamente nulla andremo a fare semplicemente clic destro e quindi incolla nella barra di ricerca seguito da una pressione su questo pulsante qui, il pulsante appunto di ricerca. In pochi secondi ChatGPT analizzerà il nostro errore e ci riproporrà una soluzione caso per caso. Come vedi infatti per quanto concerne il nostro tipo di errore, oltre a darci una sommaria descrizione di quello che è successo, va ad individuare e ad elencarci tutte le cause più comuni che possono sul nostro computer aver generato questo tipo di errore, ma anche e soprattutto ad elencarci e spiegarci passo per passo, in maniera veramente semplicissima, la relativa soluzione, indicando anche i comandi che potranno essere tranquillamente copiati ed incollati nel nostro prompt senza neanche il bisogno di andare a digitarli, in modo da risolvere in maniera assolutamente semplice e anche abbastanza sicura e collaudata, perché è un pochino di tempo che sto testando questo sistema, qualsiasi tipo di errore anche grave in tanti casi che può affliggere il nostro computer. Mica male! Se tuttavia non sei ancora soddisfatto e vuoi andare ancora più in profondità nell'analisi del tuo computer utilizzando l'intelligenza artificiale, oltre che la nostra cronologia affidabilità, potrai utilizzare il visualizzatore eventi. Si apre nella stessa maniera e quindi cliccando sulla lente di ricerca e andando a digitare nella barra in alto proprio visualizzatore eventi. Fai clic su questa icona qui per aprirla ma ti avverto già che ti troverai su una delle schermate non esattamente più amichevoli che Windows ci offre. In ogni caso niente paura perché quello che dovrai fare sarà andare semplicemente qui in questa voce che si chiama registri di Windows, espanderla per mezzo di questa frecciolina e qui all'interno potrai decidere se analizzare gli errori relativi alle applicazioni, alla sicurezza, errori di installazione oppure gli errori di sistema che seguiranno esattamente la stessa nomenclatura che abbiamo visto anche nell'app precedente e quindi le informazioni saranno contraddistinte dal cerchietto con la I, gli avvisi dal triangolo con il punto esclamativo e gli errori dal cerchietto con il punto esclamativo. Se quindi vorrai delle informazioni relative ad un errore che hai individuato sul tuo computer quello che dovrai fare anche in questo caso sarà un doppio clic sull'errore dopodiché potrai andare a selezionare tutto quanto il testo dell'errore e in questo caso dovrai premere sul pulsante copia. Allo stesso modo proprio come abbiamo fatto prima potrai andare in chat GPT, andare ad incollarlo, premere sul relativo pulsante e vedrai che otterrai anche in questo caso tutte quante le risposte che ti servono. Ok e fino a qui abbiamo parlato degli errori ma nel caso della lentezza come ce la caviamo? Ebbene qui entra in gioco il nostro terzo ed ultimo strumento di oggi che si chiama monitoraggio risorse. Eccolo qui. Possiamo trovarlo nello stesso modo e quindi sempre cliccando in basso sulla lente e digitando nella barra in alto le parole monitoraggio risorse. Lo riconosceremo da questa icona qui che dovremo semplicemente cliccare per andare ad aprire il nostro programma. Il suo funzionamento è molto semplice. Ci dice in termini percentuali quanto viene utilizzata la nostra CPU, quanto viene utilizzato il nostro disco e quanto viene utilizzata la nostra rete. Tutto è riassunto nei tre monitor che vediamo qui sulla destra che sono riferiti appunto alla CPU, al disco e dalla rete. Nel momento in cui qualcuna di queste percentuali e ci occuperemo in particolar modo della CPU dovessero salire eccessivamente, cosa che ci verrebbe mostrata anche dal relativo grafico, quello che potremo fare sarà andare a consultare questa finestra qui assicurandoci che tutte quante le app siano disposte in ordine di occupazione della CPU, cosa di cui ci accorgeremo controllando che questa frecciolina sia rivolta verso il basso. Se così non fosse clicca sulla voce CPU fino a quando la disposizione non sarà corretta. Nel momento in cui avremo individuato la app, in questo caso ho scelto il nostro povero NordVPN che occupa troppo spazio sul nostro computer, cliccheremo con il pulsante destro e sceglieremo la voce cerca online. Ci si aprirà una pagina che ci spiega tutto quanto quello che vogliamo sapere riguardo al nostro processo. Nel momento in cui tuttavia avessimo bisogno di aiuto, la cosa si farà semplicissima perché ci basterà cliccare sull'icona Copilot per ricevere tutte quante le informazioni relative al processo che abbiamo selezionato. Naturalmente la prima risposta ci verrà data in inglese perché il prompt di richiesta parte in lingua inglese, ma come puoi vedere Copilot è impostato sulla lingua italiana e se vorrai ad esempio sapere come andare a ridurre l'occupazione di CPU da parte di questo particolare processo ti basterà rivolgergli la relativa domanda. Ma naturalmente ricorda che Copilot non è l'unica soluzione e una volta individuato il nome del processo potrai rivolgerti a qualsiasi intelligenza artificiale tu preferisca e quindi chat GPT, cloud, perplexity e così via per andare a rivolgergli la domanda specifica e quindi facendo un esempio come posso andare a ridurre l'occupazione di CPU da parte del processo tal dei tali riceverai esattamente come abbiamo visto nei casi precedenti una risposta dettagliatissima e guidata passo per passo. Ma siccome ogni promessa è debito e la volontà della community è sempre sovrana, proprio come era stato deciso nel sondaggio di qualche giorno fa abbiamo iniziato a parlare anche delle intelligenze artificiali. Siamo partiti con l'utilissimo warp che nel caso ti fossi perso ti lascio linkato qui in alto e continuiamo adesso con questi stratagemmi che possono rivelarsi utilissimi per la risoluzione di piccoli e grandi problemi sui nostri computer. Ma andiamo avanti e passiamo ai ringraziamenti del giorno che quest'oggi sono tutti solo ed esclusivamente proprio per te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima. Iscriviti!